Abbiamo un grande entusiasmo, tant'è un grande entusiasmo a tutti Direi che siamo partiti alla grande Mi sembra proprio sì, volete far sentire il vostro entusiasmo? Cortina, vai! Tutti quanti! Ecco, ecco Ma tu giudici che dopo l'accensione facciamo un brindisi insieme e facciamo questa foto dall'alto Bambina, ti puoi avvicinare, ci serve un bambino, come ti chiami? Elisabetta, hai l'onore di tagliare il nastro insieme al sindaco, ecco qua Per dare il via ufficiale alla quinta edizione della Cortina